L'orologio Rolex GMT Master 2 oro rosa e acciaio, icona di stile e funzionalità. L'orologio da polso GMT Master 2 oro rosa e acciaio incarna una rara fusione tra l'eleganza intramontabile dell'oro rosa e la straordinaria robustezza dell'acciaio. La combinazione di oro rosa e acciaio in questo orologio offre un'incredibile unione tra la bellezza senza tempo e la resistenza senza pari. La tonalità calda e avvolgente dell'oro rosa si mescola armoniosamente con la solidità dell'acciaio, creando un equilibrio visivo che cattura l'attenzione di chiunque lo osservi. Il soprannome Root Beer attribuito a questo modello è un omaggio alla sua ghiera girevole che mescola abilmente i colori nero e marrone, richiamando la celebre bevanda gassata nordamericana Root Beer. Questi due colori si fondono in modo impeccabile con l'oro rosa della lunetta e del cinturino, creando una sinergia perfetta tra stile ed eleganza senza precedenti. L'orologio è un tributo all'arte dell'orologeria, unendo tradizione e innovazione in un unico pezzo di maestria. Il Rolex GMT Master II oro rosa e acciaio è molto più di un semplice accessorio di moda. È un affidabile compagno di viaggio per chi attraversa fusi orari diversi. La sua funzione GMT, Greenwich Man Time, consente di visualizzare simultaneamente due fusi orari, semplificando notevolmente la vita di chi viaggia frequentemente. Questa funzione è chiaramente visibile attraverso la ghiera graduata 24 ore, che presenta due colori distinti per indicare il giorno e la notte, oltre a una quarta sfera con una lancetta GMT. Questo orologio è un esempio perfetto di come la funzionalità possa essere fusa con l'estetica senza compromessi. Questo orologio non è solo un simbolo di prestigio, ma anche un compagno affidabile per chi viaggia frequentemente.